Giornate di apprezzione per tanti amici aquilani che il maresciallo Paolo Russo aveva ancora in città. Invece poi la tragica notizia. Il corpo del carabiniero originario di Ocre, comune dell'Aquilano, in servizio da tanti anni al settimo reggimento di Laives, è stato trovato senza vita. Il 35enne aquilano vive ormai da anni a Bolzano e secondo le prime ricostruzioni dei soccorritori sarebbe precipitato per decine di metri in un burrone. I familiari di Paolo Russo avevano lanciato subito l'allarme nella giornata di domenica non vedendolo rientrare a casa. L'uomo era uscito per un'escursione ed aveva lasciato l'auto nei pressi del rifugio Gassar per giungere a piedi sino al rifugio Monte Villandro dove hanno ritrovato anche la sua firma nel registro presenza. Non è mai arrivato, dove gli amici lo attendevano, per una partita di calcetto. Da quel momento nessuna notizia e due giorni di ricerche serrate sino al ritrovamento del corpo ormai senza vita. Nell'area si sono recati il soccorso alpino e l'Alperven di Sarentino e Bressanone assieme ai vigili del fuoco volontari di Villandro. Paolo a breve ad ottobre sarebbe diventato papà, una gioia immensa per lui e la sua compagna, una trentenne di Bolzano. Un'altra vita spezzata, giovane, sulle montagne, una persona splendida, raccontano ora gli amici, sempre sorridente e pieno di passioni. Ad Ocre Paolo Russo ancora i genitori e due fratelli che sono stati avvertiti della tragica scomparsa. Il maresciallo aveva moltissimo il calcio, una passione che ha sempre coltivato, tanto che pochi mesi fa è stato protagonista sui campi dello Sport City di Via Maso della Pieve nel turnover 35 con la squadra del settimo reggimento.